Essere inseriti in questo progetto è un risultato importante perché dall'inizio del mio mandato il nostro obiettivo è stato, con tutto il territorio, quello di valorizzare gli aspetti proprio paesaggistici, anche di agricoltura di qualità, quindi tutti questi aspetti ambientali sono diventati uno dei legami fra il Chierese e il Carmagnolese, quindi Fra Chieri e tutto il suo territorio, praticamente quello della zona omogenea della città metropolitana, quindi vari filoni ci portano a collaborare in questo senso e direi che questo è particolarmente importante perché c'entra proprio il punto fondamentale dell'aspetto ambientale, quindi sono convinto che sia un'opportunità preziosa e speriamo di poterla sfruttare al meglio.